Signor Presidente e colleghi, poiché il Senato tra breve discuterà il proprio bilancio, sento il dovere, anche a nome del mio gruppo, di sollecitare il debattito in aula su di una questione di cui nelle settimane scorse ho già avuto occasione di attirare in via informale l'attenzione della Presidenza. Si tratta della questione dei dipendenti in soprannumero non effettivamente utilizzati dai gruppi parlamentari. Con una delibera del Consiglio di Presidenza del 1993, aggiornata negli anni successivi con alcune altre delibere di contenuto analogo, è stato istituito un meccanismo volto a consentire ai dipendenti dei gruppi parlamentari che risultavano non più costituiti all'inizio di una nuova legislatura di non essere licenziati o riassorbiti dai partiti di appartenenza, ma essere, per così dire, assorbiti da altri gruppi interessati a impiegarli utilmente, anche in soprannumero rispetto all'organico normale determinato in base al numero dei rispettivi senatori. A questo fine, la Presidenza del Senato allora dispose l'assegnazione a ciascun gruppo di un contributo speciale commisurato al numero dei dipendenti assorbiti. La stessa delibera disponeva altresì che il personale dei gruppi disciolti, che non fosse assorbito da alcun altro gruppo, venisse a confluire nel gruppo misto. Il risultato attuale del meccanismo descritto, e di questo probabilmente la maggior parte dei colleghi non è a conoscenza, è che il gruppo misto si trova oggi ad avere formalmente alle proprie dipendenze un numero molto elevato di ex dipendenti di altri gruppi non più esistenti. Un numero comunque fortemente sproporzionato rispetto alle dimensioni, alle esigenze operative e alle stesse disponibilità logistiche del gruppo misto. Le sproporzioni del resto non riguardano soltanto questo gruppo. A quanto mi risulta, la situazione è la seguente. Il gruppo del Popolo della Libertà dovrebbe, in base al numero dei propri senatori, 131, secondo la regola generale, disporre di 21 dipendenti, ne ha invece 30, sempre per effetto di queste delibere. Il gruppo del Partito Democratico, composto di 106 senatori, dovrebbe disporre di 18 dipendenti, ne ha invece 24. Il gruppo della Lega Nord, composto da 26 senatori, dovrebbe disporre di 9 dipendenti, ne ha invece 10. Il gruppo dell'Unione di Centro, City Roller, Volkspartei e Autonomie, composto da 15 senatori, dovrebbe disporre di 7 dipendenti, ne ha invece 12. Il gruppo dell'Italia dei Valori, composto da 12 senatori, dovrebbe disporre di 6 dipendenti, ne ha invece 12. Il gruppo misto, infine, composto da 21 senatori, dovrebbe disporre di 8 dipendenti, ne ha invece 21. Chiedo scusa di questo elenco noioso di dati. No, io chiedo scusa invece, senatore Ichino, perché, vista la rilevanza, io le sto concedendo ampio tempo, però la prego di credere che gli interventi di fine seduta hanno un tempo limitato e limitato per tutti. Sì, ma abbiamo anche anticipato i tempi di chiusura. Eh, ma di regolamento non è un problema. Più rapido possibile. L'intera situazione merita una attenta riconsiderazione, non soltanto al fine di eliminare le sproporzioni evidenziate dai dati ora riportati, ma anche e soprattutto per verificare se e come il personale in soprannumero sia effettivamente utilizzato da ciascun gruppo. Per quel che riguarda in particolare il gruppo misto, risulta che ci siano diversi casi di persone che, pur ricevendo regolarmente da anni lo stipendio, tuttavia non mettono chiede in ufficio. Più precisamente risulta che siano a libro paga di questo gruppo i seguenti ex dipendenti di gruppi non più esistenti. Sette del gruppo del Partito Socialista Italiano, 4 del gruppo di Rifondazione Comunista, 3 del gruppo dei Verdi, 2 del gruppo della Democrazia Cristiana, 2 del gruppo del Movimento Sociale Italiano, 1 del gruppo del Partito Liberale Italiano, 1 originariamente dipendente dal gruppo del Partito Democratico di Sinistra, poi transitato per il gruppo della Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo, 1 infine dipendente originariamente dal gruppo della Lega Nord, poi transitato per il gruppo della democrazia europea. 13 delle 21 persone qui menzionate si trovano formalmente nella situazione di dipendenti in soprannumero del gruppo misto, ma è certo che le persone in soprannumero sostanziale sono di più. Mi consta che tre di queste persone siano impegnate utilmente nella segreteria di altrettanti senatori, ma delle altre non è dato sapere se, come e quanto esse siano oggi effettivamente utilizzate e lo siano state nel corso dei 18 anni trascorsi dalla prima delibera del 1993. La questione si pone anche perché non esiste presso il gruppo misto un posto fisico ad esse riservato. Non mi hai dato sapere se e quanto anche presso altri gruppi si verifichino situazioni... Io, come dire, le ho dato addirittura due minuti in più del tempo regolamentare di fine seduta e ho iscritti a parlare altre dieci persone di fine seduta. Prego. Ho scritto di questo intervento. Certamente, questo va bene. Grazie.